buongiorno che pace infinita avere la fortuna di fare il primo dicro del giorno in un luogo così meraviglioso è veramente un dono un grande dono un dono il bellissimo nome di Allah di oggi è Al-Wahab e significa il più generoso il donatore e cantando questo nome portandolo nel nostro dicro nella nostra commemorazione ci connettiamo a uno dei bellissimi talenti divini che portiamo in questa esperienza la contemplazione dei suoi doni e nella contemplazione noi possiamo riattivare i nostri ricettacoli divini e riconnetterci al tutto guardate che meraviglia l'abbiamo 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 Il più generoso.